E Lecce a poco a poco ritorna a vivere e così da lunedì 15 giugno l'accesso al Parco Belluluogo, al campo Monte Fusco di Santa Rosa e alla Villa Comunale non sarà più condizionato dalla prenotazione e saranno estesi gli orai di apertura. L'ultimo decreto firmato dal Presidente Conte mantiene il divieto di assemblamento in parchi e giardini pubblici, sarà quindi necessario vigilare sull'affollamento in questi luoghi per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'uso della mascherina anche all'aperto nelle situazioni nelle quali è necessario. In questo periodo l'utilizzo della piattaforma Park for Fun ha dato modo di gestire in ordine sicurezza sulla base delle capienze massime stabilite per il rispetto e il distanziamento sociale l'accesso di oltre 6.000 persone, ma adesso si potrebbe tornare alla normalità senza la necessità di organizzare e preventivare anche una semplice passeggiata nel parco.